In Piazza della Repubblica c'è lo spazio Monsub, ci facciamo raccontare questa realtà iesina da Domenico Alessandrini, allora che cosa offre il Monsub alla città iesi? In molti già la conoscono, ma per chi non la conoscesse? Allora diciamo che Monsub, innanzitutto facciamo un po' di storia, Monsub è un'associazione che nasce una ventina d'anni fa per spirito di alcuni istruttori di sub che volevano portare a conoscenza e volevano quindi aiutare gente che amava il mare a poter andare sott'acqua. Inizia così quindi questa scommessa e nel tempo piano piano si è arricchita di tante sfaccettature. Beh non male noi siamo campioni italiani in ordine del 2011 e abbiamo partecipato per gli ultimi tre anni a organizzare i campionati italiani estivi e abbiamo portato tre anni fa i campionati italiani qui a IES. Noi ultimamente facciamo anche corsi per disabili e è un club diciamo da tante sfaccettature.